Il cliente ha sempre ragione. Buonasera. Scusi, quanto costano le scarpe nere che sono in vetrina? Mi dispiace, non ho capito. Quali vuole vedere? Ci sono tante scarpe in vetrina. Quelle basse o quelle col tacco? Quelle con il tacco, per favore. Sì, ora ho capito. C'è un solo paio col tacco. Sono un'ottima occasione, signorina. Costano solo 60 euro. E se prende anche quelle basse, le vendo insieme a 100 euro. No, grazie. Mi interessano solo quelle con il tacco. Ci pensi bene, signorina. È un vero affare. Un prezzo davvero conveniente. E poi, personalmente, trovo che ad una ragazza della sua età stanno meglio le scarpe basse. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. E voglio quelle col tacco. Certamente, signorina. Il cliente ha sempre ragione. Va bene. Vado a fare un giro e ci penso un po' su. A che ora chiudete? Chiudiamo tra un'ora. Ha tutto il tempo per riflettere. Gli altri negozi chiudono alle 7, ma noi rimaniamo aperti fino alle 8. Può ripetere il prezzo, per favore? Non lo ricordo. L'ho dimenticato. 60 euro. E 100 euro se prende anche le altre. Grazie. A più tardi. Ha capito bene la nostra offerta, signorina, vero? Ho capito benissimo. Grazie. Arrivederci. Parli italiano. Parli italiano? Vuole vedere le scarpe nere. Vuole vedere le scarpe nere? Hai capito la nostra offerta. Hai capito la nostra offerta? C'è un posto libero vicino a te. C'è un posto libero vicino a te? C'è un posto libero vicino a te?